buongiorno e buona domenica oggi è un giorno triste per l'italia tristissimo perché quello che è successo in questa ultima settimana è ormai storia una brutta storia ma la cosa che non riesco a capire è che su facebook nel mio profilo i miei amici quando guardo la mattina questa mattina non vedo nessun segnale non vedo nessuna notizia un commento un qualcosa un menefreghismo proprio assoluto non solo che non abbiamo una politica valida dei politici validi ma non abbiamo neanche gli italiani lo sapevamo in qualche modo ma questa è veramente la prova del nove per dire che italiani in italia non ce l'è ognuno fa così quello che cazzo vuole vive nella propria famiglia si interessa di quella famiglia non gliene ha fatto un cazzo di niente di nessuno e questa ripeto è stata la prova del nove perché in una nazione normale i cittadini avrebbero partecipato a questa buffonata come andando sotto Montecitorio a gridare a protestare a farsi sentire ma non c'è stata nessuna protesta non c'è stato nessun grido non c'è stato nessun commento poi chi doveva commentare ha solo fatto vedere questo spettacolo con qualche piccola aggiunta e niente più mi riferisco ai giornalisti e oggi ci ritroviamo dopo un balletto di una settimana indegno incivile e irrispettoso e indubbiamente irresponsabile da parte di mille persone che hanno fatto finta di cercare una via d'uscita anzi dice più che una via d'uscita di cercare un nuovo presidente e su 60 milioni di abitanti parlo di quelle italiane che su per giù saremo un 60 milioni non si è potuto trovare una figura di 50 anni in poi che potesse sostituire il nostro presidente rieletto Sergio Mattarella è una cosa a dir poco vergognosa a dir poco vergognosa io in questo momento mi vergogno di essere italiano mi vergogno di essere italiano lo sono ma mi vergogno di esserlo in questo momento perché quello che è successo è inspiegabile cioè è inspiegabile cioè mi sembravano quelle là se la vogliamo sintetizzare al massimo come quel bambino che fa i capricci che però la mamma e il papà lo guardano e ridono e non lo scolacciono e non non lo scolacciono di santa ragione e gli fanno finire quel modo di fare appunto di fare capricci però il popolo italiano non esiste il popolo cosiddetto italiano è stato spettatore di una pagliacciata che in questo momento in tutto il mondo ci stanno diciamo così ci stanno ridendo su ci prendono come al solito in giro e qualcuno dice beh in un paese di mafiosi che cosa deve aspettare ecco ci sono stati dei commenti eh sudamericani ho sentito dei commenti sudamericani dici in un paese mafioso perché in sudamerica si parla apertamente in sudamerica c'è forse la vera democrazia di vita perché ognuno dice quello che pensa e nessuno ha paura di nessuno perché innanzitutto in sudamerica la vita costa un cazzo perciò immaginate se non dico se qualcuno non si ehm prodica per dire un po' di verità per loro la verità è una cosa diciamo così eh eh è una medicina rispetto a quello che può succedere in sudamerica da un momento all'altro sentire una verità per loro e sentirsi bene e una verità l'hanno detto eh un gruppo di persone diciamo in un paese mafioso dove ci sono tantissime mafie che cazzo ti aspettavi? Dici noi in sudamerica qua almeno abbiamo il coraggio di ribellarci disse questo o almeno faceva capire in quest'articolo sudamericano eh in Italia purtroppo non c'è la voglia prima forse la voglia e poi il coraggio chiudeva l'articolo questo giornalista non so chi era ho letto questo articolo tradotto dal dallo spagnolo in italiano e non è che dicesse balle romane questo dizio c'è in un paese pieno di mafia e di mafiosi c'è tutto quello che è successo questo balletto di una settimana vergognoso agli occhi del mondo era il risultato naturale di un andazzo non solo politico ma sociale da parte della nostra amata Italia però nessuno su Facebook su altri social ho guardato velocemente nessuno ha detto niente tutte hanno accettato passivamente perché di fronte a certi fatti gli italiani accettano tutto passivamente soprattutto di fronte alla mafia al pensiero mafioso il pensiero mafioso porta le persone a stare zitti sia per per paura che possa succedere qualcosa e nasce scatta la cotardia ma anche perché poi le persone che stanno zitte con loro silenzio assecondano quell'andazzo ossia la mafia perché nessuno si ribella o si è ribellato quasi mai alla mafia figuriamoci a questo balletto stupido vergognoso da parte di questi commercianti perché possiamo chiamarli commercianti non politici onorevoli ma togliete quella parola per cortesia non rompete i coglioni tutti tutti quanti siete ancora a chiamare quelli onorevoli quelli sono commercianti mercanti che che cercano di guadagnarci su tutto quando non c'è il guadagno tutto si immobilizza tutto si immobilizza poi qualcuno ha scritto sul social forse più di uno ne ho letto più che grossomodo suonava così dice si lascia tutto fermo per poter cambiare in seguito praticamente abbiamo come dire girato sotto sopra come un calzino la la frase di tomase di ma di lampedusa che lui diceva si cambia tutto per non cambiare niente in sintesi mentre qualcuno ha scritto si lascia tutto al suo posto per cambiare in seguito cioè qua siamo andati proprio nell'arte oltre l'arte questa non è più arte è oltre l'arte non si sa dove siamo si lascia tutto fermo per poter cambiare in seguito cioè siamo andati oltre al gattopardo avete capito almeno avevamo questo grande principio nostro tra i tanti che abbiamo sicuri anche il presidente della repubblica per due volte consecutive due mandati ce lo possiamo vantare noi che siamo nati non sicuri io sono italiano sono nati in sicilia cioè chi è nato in sicilia si può vantare oggi di avere un presidente per due volte che mi sa che era il primo presidente sicuro che arrivasse la al colle possiamo essere un po contenti da questo punto di vista ma niente più ma niente più perché se parliamo da italiani dobbiamo metterci la maschera non la mascherina io quest'oggi non metto le mascherine niente perché vado la mia faccia come dicono in sicilia è d'impigna ve lo dico in dialetto cari siciliani che lo voi lo capite bene io ho una faccia d'impigna però una faccia d'impigna non come si intende come intendiamo noi che siamo nati in sicilia io ho una faccia che ha la la possibilità di poter guardare tutti senza mascherine senza maschera ma il resto dell'italia si dovrebbe mettere non una mascherina ma si dovrebbe mettere la testa nel secchio come dicono qui a napoli la testa nel secchio perché non c'è stata una risposta da parte di un italiano di un benpensante si accetta tutto come si accetta la mafia c'è davanti alla mafia non c'è nessuna parolina tranne Antonio Adamo ogni tanto predica e grida nel deserto nessuno dice niente e tutto quello che è stato fatto ieri in una settimana per la verità in una settimana persone pagate a 20 mila euro al mese per fare dei balletti per scrivere sulla cosa Rocco Siffredi sul per votare e scrivere sulla sulla cosa sul foglietto non so un giocatore di calcio un presentatore poverino che si è sentito pure insultato o un qualche storico come è stato come è successo tutto qua 20 mila euro per pagare queste cose per scrivere Rocco Siffredi un giocatore di calcio per questo qua per prendere pure in giro certi personaggi che hanno una certa dignità io penso io mi vergognerei sentirmi votato da quei da quei stofanti da quei cialtoni io mi vergognerei io il mio il mio nome non lo vorrei mai sentire in quell'ambito che per me è importantissimo ma dovrebbero uscire tutti quei cialtroni che ci vivono che dicono che ci lavorano a 20 mila euro al mese avete capito poi c'è da dire che sul 73enne là che è stato messo a capo dello stato come si mettono i pastorelli sul presepe che ha fatto finta di niente alla fine è uscito con qualche battutina facendo capire a questi stupidi che chiamano italiani che forse il suo posto era a capo di governo perché poi ci sono tanti interessi che si devono soddisfare che si devono raggiungere per quanto concerne l'italia e gli italiani e lui è il vero condottiero di questo di questa battaglia soprattutto i soldi soldi che dovrebbero arrivare in italia e che secondo me gli italiani non vedranno un cazzo un cazzo per quello che si sono permessi di fare in questa settimana e per quello che abbiamo sentito è il giornalismo che asseconda tutto tutto e tutti che sono più cialtroni che sono più cialtroni di quei commercianti io dico che questi soldi che dovrebbero arrivare ammettendo che arrivi qualcosa gli italiani non vedranno un cazzo questi soldi sono tra di loro e soprattutto la mafia che sta aspettando come un cane alla catena e la mafia ripeto che sta aspettando come un cane alla catena pronta questa mafia per azzannare gran parte di questi soldini perciò c'è in questo momento e se visto apertamente ormai non abbiamo bisogno più di indizi ce lo fanno questo teatrino avviso scoperto avviso scoperto almeno diceva qualcuno una volta quando nel far west si andava a rubare a rapinare si mettevano il fazzoletto davanti alla faccia oggi non si mettono neanche quello rubano apertamente cioè hanno dimostrato di essere dei cialtroni dei ladri e che si sentono forte perché camminano a braccetto con una certa signora che si chiama mafia che poi questa signora è divisa in tante sorelle sono cinque sorelle in italia cinque sorelle famosissime che si chiamano mafiosa sigula mafia qua mafia là sono cinque sorelle come quando si dice nel calcio le sette sorelle qua sono cinque sorelle dal punto di vista mafioso e abbiamo le cinque sorelle più belle del mondo proprio da miss mondo neanche da miss italia e c'è qualcuno si vanta pure ora avendo dietro queste cinque sorelle molto belle e potenti loro fanno quello che cazzo vogliono tanto gli italiani come stanno zitti di fronte atti ce ne sono tantissimi in italia mafiosi che poi chiamano magari in un modo in un altro ma sono tutti atti mafiosi certo sono pronti a coprire con un linguaggio pittoresco quando succede qualche cosa no come dire sono delle organizzazioni occulte che cazzo vuol dire sono delle organizzazioni occulte l'organizzazione occulta perché mafiosa perché se non è la mafiosa coglione non era occulta però loro si lasciano andare a questo lessico spumeggiante che è quasi che sarà sicurante perché tu senti un'organizzazione occulta e allora dici beh sarà qualche azienda che viene magari dalla Svizzera o viene dalla Svezia o viene dall'Inghilterra e non si vuol far conoscere no l'organizzazione occulta è la mafia che abbiamo in Italia o qualche mafia che arriva in Italia e giustamente vuole anche il suo avete come quelle africane cinesi russe e così via è inutile che dite queste cose allora siccome gli italiani di fronte a queste sorelle sono come dire restano affascinati senza proprio sono delle scene mozzafiato per gli italiani quando vedono queste cinque sorelle stanno sempre in silenzio figuriamoci se non stanno in silenzio davanti al teatrino che questi cialtroni hanno fatto per una settimana ma riescono a fare questo teatrino perché sono sicuri di avere dalla loro parte le cinque sorelle perché stanno insieme hanno un amore infinito con le cinque sorelle avete capito avete capito quello che succede perciò non è che esiste più non esiste niente ieri sera alla fine quando c'era diciamo la proclamazione di questo seconda secondo mandato che diventa di nuovo presidente della repubblica tutto il popolo italiano doveva scendere arrivare al parlamento e proprio tutte una mano ciascuno sollevare questo parlamento e sradicarlo almeno spostarlo in un altro posto dice lo pigliamo tutti e lo portiamo vicino accanto al vaticano perché forse vicino al vaticano ci potrebbe essere un miglioramento nel tempo vicino alla parola di dio vicino a questi prelate vicino al papa vicino a questo sistema proprio spirituale che è l'anno forse messo questo parlamento vicino al vaticano poteva dare segno di o segni di cambiamento secondo me questo bisognava sradicarlo tutti gli italiani 50 milioni perché 10 milioni sono bambini 50 milioni di italiani doveva andare la prendere questo parlamento sradicarlo e portarlo vicino al vaticano perché poteva giustamente quella clima spirituale che si vive e si respira nel vaticano poteva influenzare la mente di questi cialtroni e farle diventare un pochino veramente più seri più razionali e più responsabili invece non si è fatto qual è stato il risultato e la risposta zero sul social io non ho un amico qualcuno ha fatto qualche battuta da intellettuale proprio consumato ha fatto qualche battuta e basta ma non c'è stato mai non c'è uno in italia che parla apertamente figuriamoci voi i giornalisti i giornalisti sono sempre con quel linguaggio dire e non dire dire e non dire per come certe volte posso dire per come parlano certi signori che stanno vicino alle cinque sorelle certi tizi che ancora non hanno scalato non sono arrivati vicino proprio a poter chiedere la mano delle cinque sorelle cioè in alto e allora questi tizi lavorano e stanno per le cinque sorelle però parlano dicono e non dicono perché non si vogliono sbilanciare e i giornalisti sono così non si sbilanciano dicono e non dicono qualche poi c'è qualche giornalista femminuccia che cerca di specificare quello che è successo non una sua idea no una suo commento su ciò che è successo no dice come è successo e ci tiene a specificarlo in maniera maniera chiara dice è successo questo lo voglio sottolineare l'abbiamo visto quello che è successo non c'è bisogno cara signorina ormai non più buonasera ma in tutti i momenti del giorno che salutate e dite e dite niente dite niente non c'è bisogno certe volte di specificare di puntualizzare abbiamo capito e abbiamo visto perfettamente poi se stiamo zitti è perché siamo codardi è uno che è codardo non c'è non non se la può prendere con nessuno perché purtroppo la codardia ancora non è stata interpretata da parte degli scienziati forse gli scienziati non hanno presa mai in considerazione ma non è stata mai interpretata come malattia invece la codardia è una malattia guardate cosa succede un popolo di codardi e se questa non è malattia cosa può essere guardate che cosa ha combinato che spettacolo ha scritto ha scritto e realizzato nella storia dell'italia io penso che il popolo inglese non sarebbe mai arrivato a questi livelli il popolo tedesco dio che ce le scanse liberi la non se ne parla proprio oppure si scende in piazza e sono legnate legnate proprio da orbe ma non non parliamo di quelli sudamericani che quando succede qualcosina da nulla come in perù qualche anno fa per l'aumento del biglietto del bus è successo l'ira di dio in italia invece no ma qualcuno può dire come ha scritto quel giornalista sudamericano ma che volete che possa succedere in un paese che ci sono cinque sorelle che si chiamano mafia cinque sorelle cosa può succedere un popolo che è abituato a sopportare tutto e a stare sempre zitto di fronte a un balletto stupido irrispettoso e irresponsabile cosa poteva succedere niente ma perché perché il popolo oltre a essere cotardo non esiste neanche non esiste neanche e allora a questo punto cosa bisogna fare purtroppo bisogna andare avanti purtroppo non si riesce a capire neanche chi ha accettato quel balletto balordo e chi no almeno potremmo fare come dire un'analisi più approfondita e tirare dei numeri delle percentuali non possiamo fare neanche quello dobbiamo dire che tutti gli italiani tranno antonio addamo e qualche altro io penso che ci sarà qualche altro saremo tre quattro dieci forse hanno detto apertamente ciò che non hanno accettato che hanno visto e che non potranno mai accettare io per me non accetto neanche il presidente della repubblica ve lo dico sinceramente perché dico al mio corregionale mattarella parlo ora da sicolo a sicolo da persone che siamo nati in sicilia caro mattarella non dovevi accettare neanche sotto minaccia non dovevi accettare mai li dovevi fare scannare questi commercianti per un mese per due mesi per un anno come hanno fatto ai tempi del papato che non si riusciva a fare il papa li dovevi fare scannare la per tanto loro del popolo non gliene fotte proprio un cazzo non gliene fotte la abbiamo una signora che sempre contro tutti perché quella deve tenere alta la bandiera della verità dell'essere italiana di essere diversa dai dai sinistroidi e perciò quella praticamente sempre contro tutti perché anche se la sinistra che chiamano sinistra io li chiamo sinistroide pure io non sono né di destra né di sinistra né di centro se la sinistra dicesse abbiamo qua Gesù Cristo di nuovo intero vivo bello che parla tutti quelli là che chiamano di destra insieme alla signora direbbero togliete di mezzo che non è buono perché là c'è un muro contro muro che viene creato non da quello che hanno riportato in Italia dopo che è stato 6-7 anni in Francia come l'hanno riportato perché interessava perché certi tizi che purtroppo ci vedono pochi e non sentono per niente non è colpa loro sono così dopo che l'hanno buttato l'hanno mandato quasi in esilio e l'hanno tolto da primo primo ministro facendo entrare se vi ricordate a Renzi che quando c'è stato il passaggio della campanella eh lui da quanto era dalla voglia di andarsene dall'Italia e se n'è andato dall'Italia schifato da quest'Italia che l'ha trattato male neanche ha salutato Renzi e neanche ha guardato Renzi e riguardatevi il filmato quando c'è stato il passaggio della campanella non ha suonato non ha fatto niente ha alzato la campanella e quasi quasi gliela stava lanciando a Renzi ora dopo 7-8 anni è ritornato in Italia per fare che? per fare danni cioè uno che non è stato all'altezza anche come primo ministro che l'hanno sostituito in corsa se ricordate bene figuriamoci per questa trattativa e allora avevamo questo tizio da una parte che giustamente non voleva come dice qualcuno né perdere né vincere si era inventato questa cosa qua non sapeva cosa dire dici qua noi non vogliamo né perdere né vincere nessuno deve perdere nessuno deve vincere c'è una persona che viene pagata più di 20.000 euro al mese per dire qua nessuno vuole perdere nessuno vuole vincere io penso che è un lavoro gravoso è un lavoro pesantissimo questo 20.000 euro al mese per potessi inventare questo slogan no qua nessuno vuole perdere nessuno vuole vincere qua nessuno deve vincere alla fine nessuno deve dire che ha perso avete capito e diceva sempre così quella di là che si batte a destra e a manca cercando di fare tutti i nomi d'Italia perché ne hanno fatta a non finire e queste qua rispondevano sempre allo stesso modo ora è tutto un teatrino e sotto sotto e sono convinto che erano messe tutte d'accordo perché non penso che in Italia ci sia una destra un centro e una sinistra perché nessuno parla di destra e fa le cose di destra come ha dimostrato la storia mi ripeto nessuno fa e dice cose di destra come ha dimostrato la storia e nessuno fa cose di sinistra come ha dimostrato purtroppo e ha fatto vedere la storia avete capito? il centro invece non esiste più però è sempre là il fantasma questo modo di fare è un modo di fare alla tipo democrazia cristiana perciò questa democrazia cristiana non è morta c'è un fantasma che oggi fa più danni di allora io ieri sera parlando di persone che si riuniscono e che cercano di decidere ho visto un film siamo nel periodo della memoria no? e allora li sto vedendo un po' tutti quando ho tempo ovviamente ieri sera ne ho visto uno stralcio forse la parte più drammatica non era come quella della lista di quella là di quelle ve lo dico in parole povere no? quello che ha salvato oltre 1300 ebrei attraverso la sua fabbrica in quando era non so se era lui di origine polacca oppure cieca non mi ricordo però era ambientato in una zona della Polonia e allora c'è stata una riunione molto drammatica molto drammatica perché dico drammatica perché cosa stavano decidendo quelle 20 persone messe al tavolo erano cose che poi si sono realizzate una brutta storia ma è una cosa che si è realizzata qualcosa che si è poi alla fine visto sui libri di storia stavano decidendo cosa fare degli ebrei signori io non avevo visto mai una scena così lunga e così secondo me veritiera dove ognuno di loro spiegava in maniera dettagliata cosa doveva succedere a questi 11 milioni di ebrei che erano in in Europa come dovevano essere trattati come dovevano essere lavorati possiamo dire come se si parlasse di una merce che doveva essere così prodotta e che doveva essere portata poi alla fine al al dettaglio avete capito c'è dei discorsi e dei linguaggi anche se detti questi linguaggi in maniera perfetta facevano accapponare la pelle perché quelle cose che loro stavano razionalizzando noi sappiamo perché faceva accapponare la pelle perché noi sappiamo poi come è andata a finire quel dire non dire delle cose però che volevano portare sempre a una soluzione finale come dicevano loro anche se non era spiegata qual era questa soluzione finale c'erano in ballo 11 milioni di ebrei che vivevano hanno fatto vedere anche una cartina geografica di quel momento di quell'epoca che la Germania stava conquistando tutti e tutti e stava cercando una soluzione per questi ebrei hanno discusso tutto ciò che poi nella realtà e nella storia si è verificato cose da accapponare la pelle cioè voglio dire quando si prendono delle decisioni anche nefaste ci sono uomini che sono all'altezza di prendere queste decisioni noi qua abbiamo visto dei bambini nessuno vuole fare confronti con quel tipo di decisioni di razionalizzare diciamo certi obiettivi cioè qua l'obiettivo nostro era di fare un presidente della Repubblica però persone serie dicono ognuno e là ce ne sono ne manteniamo oltre mille dice qualcosa di serio e se è qualcosa di serio molte altre persone al tavolo dovrebbero ammettere che quella è una scelta seria perché di scelta si parla se doveva arrivare a una scelta invece noi abbiamo fatto neanche politica mercanteggiare no questa cosa non mi vale voglio questa perché con questa ci guadagno di più alla fine qual era il mercanteggiare? era che se si arrivava a una crisi di governo questo era il punto il culo dove bruciava un po' a tutti si doveva rifare di nuovo il governo e se c'era una crisi forte si doveva andare anche all'elezione l'elezione vuol dire che un quarto mi sembra un quarto dell'attuale Parlamento dovrebbe andare a casa cioè io non capisco cosa voglia dire dopo che si è stato per 70 e più anni con tutta quella gente là di colpo un quarto deve andare a casa e allora scusate se deve andare un quarto perché non tre quarti cioè io mi chiedo se è un quarto grosso modo che deve andare a casa oppure la metà ma perché non devono essere tre quarti o quasi tutti e lasciare dieci persone che possano decidere io penso 50 persone benissimo 50 persone che con un costo di 20.000 euro al mese è una spesa più che giusta 50 persone per poter decidere i fatti dell'Italia 50 persone possono essere prese da tutti i posti dello stivale che possono rappresentare tutte e 50 diciamo 60 ne mettiamo altri 10 che possono benissimo rappresentare lo stivale e fare gli interessi di tutti i punti dello stivale le regioni le province e così via ma non mille allora se noi volevamo veramente abbassare il numero di questi cialtroni non si doveva parlare di un quarto si doveva parlare di una somma e lasciare 50-60 persone che avrebbero potuto benissimo rappresentare qualsiasi spicchio di territorio italiano invece no ne tolgono perché è stata una mossa politica da parte di quel fantomatico movimento che ha fatto di tutto e di più che ha superato la democrazia cristiana quelli vi ricordate che volevano entrare e girare sotto sopra o aprire il Parlamento come una scotoletta di tonno e alla fine il tonno erano loro si è capito che alla fine quando si è aperta la scatoletta il tonno erano proprio loro avete capito questa è la cosa oggi giustamente a distanza di un paio di un paio d'ore io mi sento veramente triste per me un giorno triste e lo sarà anche domani dopodomani quando vedrò lunedì ormai devo dire il mio presidente devo accettare devo fare come Socrate a questo punto qua le cose stanno così non le posso girare e non potendole girare allora Socrate non potendo girare quelle leggi che lo hanno portato alla condanna io non posso girare quello che è successo queste leggi che ci sono che secondo me dentro di me io vivo come una condanna peggio di Socrate peggio di Socrate perché sapere e rivedere quel povero Cristo a 80 anni che non aveva forse nella sua serietà perché tutto possiamo dire ma Mattarella è una persona seria aveva veramente forse altri obiettivi perché a 80 anni mettersi sulle spalle questi cialtroni inutili e che ti possono combinare alla qualsiasi cazzata non è una bella cosa non è una bella cosa perché il povero Mattarella che questo secondo mandato sarà molto più difficile del primo si deve guardare alle spalle un po' da tutti perché questi qua caro Presidente sono capaci di tutto e se voi avete una grande dignità da rispettare dei principi che rispettate che noi italiani abbiamo ammirato e capito state attenti caro Presidente attenzione guardatevi le spalle perché queste qua questi cialtroni sono capaci di tutto per restare col culo sulla sedia per non perdere quei 20 mila euro al mese perciò questo secondo mandato caro Presidente per voi sarà durissimo durissimo dovete accettare delle cose e vedere delle cose che nel primo mandato forse sono state quisquiglie ora ne succederanno di tutti i colori e vi chiederanno la vostra opinione vi butteranno in ballo sicuramente vi faranno fare qualche figuraccia ma l'avete voluto voi l'avete voluto voi io al vostro posto caro Presidente non avrei accettato neanche sotto minaccia avrei detto sentite belli io vi ho fatto vedere come si agisce e come si è veramente uomini delle istituzioni come si fa politica e come si agisce ve l'ho fatto vedere prima e nei miei sette anni di Presidente purtroppo voi non avete questi principi non avete intenzione di cambiare e allora sbattete le corna per un mese due mesi tre mesi un anno fin quando non troverete qualcuno che possa sostituirmi io con voi non ci sto più io avrei detto così caro Presidente però dato che ormai vi hanno tirato in ballo e vi hanno preso veramente con la giacchetta dovete accettare di tutto di tutto perché ripeto caro Presidente questi signori qua sono capaci di tutto e l'abbiamo visto e l'abbiamo visto dici ma qualche italiano come me qualche italiano non si rammarica non si vergogna di quello che è successo sì ma saremo tre quattro cinque anche lei Presidente non penso che sia allegro per quello che è successo è orgoglioso per quello che è successo perché caro Presidente noi sappiamo come la pensa che uomo è ed è veramente una una persona dal punto di vista politico integerrima lo sappiamo ma dovete convivere con questi cialtroni io caro Presidente da sicuro a sicuro vi dico la verità io non avrei accettato dice ma ma dovevano stare 15 giorni un mese alla fine qualcuno doveva saltare fuori io non avrei accettato anche perché caro Presidente io ho quasi 70 anni e penso che gli ultimi giorni della mia vita li devo fare nella massima serenità mi metto davanti a questi tizi a questo carro tirato non da cavalli ma da buoi e bufali no caro Presidente non l'avrei fatto neanche sotto minaccia io vi auguro caro Presidente tanta salute forza per poter accettare questi individui questi individui perché non si possono chiamare né politici né niente sono al limite dei commercianti e di affrontare questo settentrato con tanta serenità e buona fortuna così caro Presidente Mattarella io vi saluto e vi auguro buon lavoro a voi tutti che state ascoltando una buona domenica grazie a tutti